Buonasera dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla FIPILI un chilometro di coda per lavori tra Empoli Est ed Empoli in direzione mare. Sulla statale 223 di Paganico rallentamenti per incidente tra Ponte Macereto e Bagnaia. In A1 ricordiamo che fino al 18 giugno è chiuso il tratto tra la variante di Valico e Aglio, uscita consigliata a Badia sulla variante di Valico. Sulla statale 1 Aurelia chiusi gli svincoli di Rio Torto in direzione Genova e di Gavorrano e Rosignano Marittimo in direzione Roma. A Firenze per i lavori della tramvia domani dalle 9 alle 17 restringimento di carreggiata in via Paganini. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!